di vista di estrazione degli aromi. Gli aromi di un vino stanno risentendo dalle bucce, quindi più le bucce stanno a contatto con il mostro che viene spronuto, maggiore c'è eccessione di questi aromi all'interno del mostro. Gli aromi sono sostanze in grosso l'uvi, quindi sono sostanze che vengono cedute all'interno dell'acqua. Questo vino fa 12 ore, dopo la piassatura, fa 12 ore di contatto con le fecce, con le bucce. Quindi capite che l'estrazione degli aromi, che in effetti si sentono al fatto, ma ancora di più si sentono al gusto, è importante. È un vino bianco che può fare veramente anche un periodo di fiume di triccantina molto lungo.